Noi, esatto, spingi, 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 dobbiamo uscire da qua noi, ecco perché era più, vai, top, ah ma siamo all'entrata di nuovo, sai che dovevamo prendere una chiave, sai, o che ci siamo persi una chiave? Proprio a guardare sopra nell'ascensore? Allora, o dobbiamo entrare indietro e cercare su tutti i corpi sta cazzo di chiave? Ah che padre, ma qua c'era un buso, questo è il corridoio? Sì, l'unica è non beccare il tizio, bisogna sperare, metti qua, che ci siamo fermati qua noi prima, qua siamo morti, ah c'è, dovevano andare dritti, la porta l'ha chiusa, sì. Ah, sembra non ci sia. Io no, non so dove dovevo andare. Allora vai dritto là in fuoco, vedi anche là c'è una porta chiusa, bisogna andare là secondo me. Ma Thomas non si vede un cazzo. Metti qua dietro, metti qua dietro, sopra siamo morti. Che fatica! Ma veramente, oggi è una fatica allergia. Ecco qua. E se tu corri il patibus adesso? No, perché lui non ti viene qua. Dai che va dritto, dai che va. Vai dritto. Vai, seguilo, seguilo, seguilo. Poi, vai, 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 vai. Ah, non vado il cazzo io! Secondo me era un momento d'altro invece. Per esempio, lui è avvito dalla porta, dovevamo piottar raro. Ehi! Vai, vai, vai! Cosa vuoi piottar raro che mi ha coltello delle volte che gli hai vicino? No, ma se mentre lui guarda di là... Ok. Passati, passati. Ma lui sta là adesso. Vediamo che giro fa. Ma non può vederci qui. Ma le palle! Invece può, c'è una luce alle specie. Oddio. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Dai, dai, vai, vai, vai! Niente. Niente. Cioè, o facciamo il giro che abbiamo fatto prima e mentre lui va a sinistra noi andiamo a destra. Capito? Ah, c'è copri, c'è copri. Cioè, però... Cioè, vai subito il dritto. Cioè, tanto lui... Secondo me lui sta già tornando in... Eh, esatto. Ci ha trovato. Su, 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 su. Oh, no! Che fatica. Il problema nuovo è che noi adesso siamo esattamente al corridoio che c'è lì. Che giro abbiamo fatto prima? Ah, qua siamo andati a destra, l'ho ascoltato. Ah, ecco! Lo aspettiamo qui, quando lui va a sinistra... Ci piombiamo sopra e lo uccidiamo. Assassin's Creed. Gli sping. Cose belle, sole, cose belle... Vai, vai, cazzo a te, ne iologiamo ogni tanto. Cioè, iola, iola... Già molto, quattro volte, cioè... E che ti manca, capito, lo sprint? Tu quando vedi un coltello ti pianti, non devi mollare lì il corpo, bravo, bravo, vagli in faccia! Nel di più fai, eh eh eh, Cristiano Ronaldo eh, dovevamo andare lì là, sono lì, sono lì sopra! In destra, in destra, no, dovevamo andare lì, ti ho fatto la finta di corpo però io! Scusate, 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 dovevamo andare là, gli faccio la finta di corpo, la finta è ronando, adesso io la faccio la stessa, la sinistra qua è chiuso, ecco la sinistra qua, Cristiano, ecco lui siamo arrivati da qua, nasconditi in un letto a caso, Cristiano, ma ci ha visto tantissimi, non ci credo, eh, veramente, pirla, dai, vai, ciura, uuuuhh, non so, vai, 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 vai subito, vai subito, corri, corri, corri! Chiudi la porta, chiudi la porta! No, mettiamolo, vai dritto, in là! Doviamo salire su, dobbiamo salire su, dici, perché sennò non mi ha trovato, picchierlo cazzo, picchierlo, se gli ultimi non ci riusciamo, Cristiano è ripartito sulla faccia, attenzione Siamo in mezzo a tutti, ci si chiama tipo subito, dove c'è andato? Allora mettiamo qua, picchierlo lo vediamo passare, poi facciamo la mossa del ghebardo e andiamo a sinistra, a sinistra con la mossa del ghebardo, dove è andato? Lì, è andato a destra adesso, io andrei subito vai subito, ma mi vede il ghebardo? O cerchiamo una scheda qua intorno, però non credo che uno di loro abbia una scheda, che fatica! Non ne ho più, non ne ho più, eccolo! Ah vai, vai giù, devi andare a sinistra! Sì! Ah ma c'è una porta lì! Guarda là! Shhhhhh! Ma non mi fai spingere? Ah, dici che si basta? No! Uh! Ma perché non ho capito cosa è successo? Perché non si spinge la porta! Tostiano ancora! Secondo me lì comunque, a destra, a sud e a sinistra c'è la porta, cos'è? Una porta! E non ci vede il bug, e non ci vede il bug del mondo è scomparso! No, è in mezzo all'oscurità, anche lì sotto un letto! Il bug della vita, dove è andato? È sotto un letto! Eccolo! Vai, vai! Che due palle! Lì! No! Ho questa, ho quella, io provarei subito questa qua! Questa qua, questa qua, questa qua! No? Allora quell'altra! Tutto chiuso, Dio! Dai, sicuro che non si spinge più calazzo, l'ho già visto! Eccolo! Ma moriamo, moriamo! Sì che si spinge! Allora che cazzo fatti! Dai, continua! E allora scappa! Dai! A questa porta! Vai! Destra, destra! Corri, 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 corri! Corri, corri, corri! Corri, corri, c'è una botola, c'è una botola, c'è una botola, c'è una botola! Non dobbiamo capellare! Grandissimi! Ma che numero! Che numero! Che numero! Ce l'abbiamo fatta! Amici è fuori, ti prego, fammi vedere un salvataggio, se no ho stretto! Uff! Allora, oggi devo avere gli uomini, porco Giuda, si cade! Si cade! A me basta che quando cade a terra... Vai dritto! Tu scendi e vai! Ok! I vani! Ma può essere gli stessi punti prima! I miei ombre! Eh no però eh! Eh no! Ma no! Ma no! Vedi questo è un altro! Uuuuh! 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 Questi sono altri band perché c'era un'altra porta, due aperte e una chiusa, noi abbiamo aperte tutte e tre! Qui cazzo c'era! Allora siamo sicuramente nello stesso piano! Ah! Nelle porte che... Nelle porte che sul corridoio non si aprono! Forse! Quindi... Oh! Forse devi aprire quelle! Allora! Oh! Che sono chiuse! Sembrerebbe non ci sia lui! Oh! Quella la è unicapibile dunque! Quella è sbarrata! Quella ci siamo venuti! Però che non ci sia qualcosa da bagno! Nel bagno! Attacca di cuore! 3, 2, 1! Vai! Madonna! È la chiave! Yes! Ah! Vai! 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 Cosa? Cosa? Perché ti sei abbassato? Corri! Corri! Perché ti sei... Corri! Vai! 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 Destra! Sinistra! Togli sta roba! Non si vede niente! Destra! Ricciamo da letto! Orcat Roya! Giù! C'ha visto? C'ha visto tantissimo! C'ha visto! No! Di! Ta bomb! Ta bomb! la bomba, perché non ci ha visto, giuro, giuro incredibile, non ci credi, clamoroso il cibo diventato, in che non va via non ci muoviamo, fa là, però c'è un bello sprint anche lui, c'è un bello sprint anche qui, qua dritto, a destra alla prima, per me ce l'ha chiusa questa, io l'avevo aperta prima, ma, ma questo è l'altro, si, vuol dire, ascensore, ascensore, ah lì, comunque è un ascensore che è una chiave del genere, eh, c'è qualche cilia, io scommetto, ecco, che devo fare, oddio, 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 vai, spaccagli la testa, spacca, grazie che sei morto, è brutto, pezzi, problema che Nooo, non ci credo. Vedi la botta o la credi di gioco prima? Secondo me noi abbiamo uscita lì, sai? Che due palle di gioco! No, ora abbiamo ucciso Ergosse. No, adesso è gioco. No, ma siamo ancora sul nostro piano. Ah no, questo è... Abbiamo fatto due piani, quindi. Sì, perché? Ah, abbiamo fatto due piani, io non ho uno. Dai! Che palle! Troppe scale! Le scale! Le scale! Troppo facile! Tro... troppo facile! Non è vero? Non ci si crede. Niente, Paterina, Paterina. No? Paterina, Paterina, Paterina... Allora, ci siamo al primo piano. Va bene? E' già l'uscita. Dai, va bene. Insomma, qua, qua in questo ufficio bellissimo, credo che possiamo chiudere l'episodio. va bene giovane giovanotti è stata anche tanto bravo non so se era più un platform con il livello di cianaxi ci vediamo alla prossima puntatation